Cicciuarra di guu! Allora ragazzi, quest'oggi che cosa facciamo? Andiamo praticamente a giocare insieme a World of Warcraft No, non è vero Adesso io sto giochendo a World of Warcraft Ma avevo voglia di parlare, di esprimere diciamo le mie ideologie Le mie idee in merito a quello che penso, eccetera, eccetera, eccetera Che voi avete già capito ormai come ragiono In senso io non ce la faccio a termini dentro le cose e quindi mi devo esprimere Allora, di fondo, quindi la cosa fondamentale di cui volevo parlare oggi Era diciamo un po' l'approccio per strada Cioè nel senso come faccio io ad approcciare per strada una ragazza E vi farò anche delle illustrazioni vere e proprie Ok? Non utilizzerò a World of Warcraft, ma utilizzerò a WAP Che è una board online e mi consentirà di fare delle illustrazioni minime Così almeno non devo andare in giro io a farmi filmare Non devo violare la privacy della gente Ma posso semplicemente farvi delle illustrazioni in bavo a un culo E quindi voi sapete esattamente che cosa fare Poi forse le metterò anche nel libro Non lo so, non credo perché comunque le disegno io un po' così a cazzo Quindi sono illustrazioni del cazzo E queste illustrazioni le potrete poi utilizzare Per appunto cercare di capire quando uscite e come fare Quindi nel senso come relazionarti a una persona E ovviamente in modo anche sociale a livello Diciamo intelligente a livello sociale Perché comunque Se ti avvicini in maniera strana e quindi da malato mentale Cerca di capire se ho una spada molto più bassa dell'altra Se ti avvicini appunto a una persona da malato mentale È normale che le due chance fanno tipo questo Già sono basse quindi se ti avvicini da psicopatico Da matto Sarai visto appunto come un matto E quindi la cosa non è il massimo della vita Quindi Che cosa possiamo fare? Possiamo semplicemente vedere In questo caso proprio specifico I vari tipi di approcci che puoi fare per strada Con una ragazza Quindi come puoi approcciare questa persona per strada Anche se non fossimo stato in quarantena Questa è un'idea che mi è venuta in modo che così Posso esporre il mio modus operandi E quindi vi posso aiutare senza dovermi riprendere per strada Mentre faccio una cosa del genere Cosa che non posso fare Perché se frequento una persona Mi metto a fare gli approcci con le altre Anche se in teoria Nel senso sarebbe a scopo dimostrativo Quindi non è che non è fattibile come cosa Però di sicuro una cosa del genere Non farebbe piacere alla mia compagna Quindi di sicuro E poi comunque richiede Cioè un lavoro Abbastanza rompipalle E non è poi così piacevole Ok? Non è così piacevole perché comunque Devi stare lì Ti devi registrare Poi devi oscure il video E io non ho tutta sta Sto sbattia Mi piace fare video molto strani Molto semplici Mi piace essere molto così Rosè Cioè nel senso Come viene viene Va da piacere Allora di fondo Quindi cosa facciamo Utilizziamo questa lavagnetta Adesso io farò un po' di switch Sopra e sotto Qui ci sono vari audiolibri Che sto ascoltando Sto scrivendo un articolo Quindi ora vedrete un po' i cazzi miei Però Questa qua è AVboard Praticamente Questa board Io posso disegnare E farvi vedere le mie Capacità artistiche Ok? Quindi utilizzeremo questa E la vedremo insieme Quindi Il titolo sarà Allora schiamo il testo Schiamo qui Approccio in strada Ok quindi Ci focalizziamo su questo Adesso Come faccio io Ad approcciare strada? Cioè io approccio Allora prima di tutto Quale strada? Cioè nel senso Non è che tu Vai ed approcci una persona Mentre stai in una dark alley Come si dice in inglese Cioè nel senso Approccio le strada Dove tipo Cioè Questa in bocca E tu vai da dietro E gli fai Scusa Pensavo che riusci Cioè nel senso Queste cose Magari Diamole Perché trasentiamo La molestia verbale Se non Anche peggio E comunque Non fa piacere Cioè nel senso Tu immagina Che stai per strada E ti ritrovi uno Dietro che ti bussa le spalle E ti dice Eh penso che tu sia carino Cioè io mi farei due domande Penserei che questo Non me lo voglia mettere nel culo Che comunque Questo è uno stupratore Quindi stare un attimo attento E quindi eviti Posti Logicamente Sconsigliabili Cioè È normale che Se tu fai un approccio Scegli dei posti Funzionali Cioè non è che Scegli la strada Non affollata La strada deserta Scegli la strada Dove è Dove ci sono persone Dove si è sicuri A livello sociale A livello normale Ok Cioè si è sicuri Che sicuramente Qualcuno non ci può Far del male Ok E quindi che ne so Una strada Tipo via del corso Ma comunque Una strada Dove c'è gente Che fa shopping Il centro commerciale Già è una strada migliore Cioè Capisci con me Che Cioè questa cosa La devo specificare Perché c'è già Allora io Quando ho incominciato Non la capivo Sta cosa Cioè si chiama Si chiama Calibrazione sociale Cioè tu veramente Ti calibri A livello sociale Così che l'altro Possa capire Nel senso Così che l'altro Ti percepisca Nel modo giusto Che non ti percepisca Nel modo sbagliato Cioè Sei calibrato E quindi ci vai Piano piano In modo tale Che quella cosa Anche se comunque Hai delle chance Di successo Irrisorie Cioè nel senso È molto Poco probabile Che tu Riesca ad approcciare Una donna Che abbia successo Per strada Ma non perché Sei tu Perché è così Perché funziona In questo modo Allora comunque È meglio Diciamo calibrare Nel senso Per non azzerare La La chance Ok Vedi questo ride Anche l'umano Qui di World of Warcraft Quindi occhio Allora la prima cosa L'approccio in strada Ci focalizziamo Sul tipo Cioè una strada Come questa Vedete nel videogioco No io adesso Ho messo il videogioco Apposta Cioè una buia Così Dove cazzo vai ad approcciare Devi stare attento Ok Poi altra cosa fondamentale Dove Dove approcci L'abbiamo visto E anche il come approcci Ok Perché è normale Che si approcci per strada Ma sembri una sorta Di psicopatico Non è proprio Il massimo della vita Sarà molto più funzionale Approcciare in maniera Polite Quindi nel senso Cortese Quindi non scorbutica Però Anche fisicamente Dovrai essere polite Capito Quindi Evitare di andare dietro Se puoi evitare di andare dietro Alla persona Che stai approcciando Sarebbe meglio Sarebbe molto più funzionale Farlo da davanti Cioè nel senso Da davanti Tu ti avvicini E ti presenti Perché trovarsi Come se fosse Se uno fosse predato No Per Per la Dalla persona da dietro Fa un po' Fastidio Ok Cioè L'idea che tu sei predato Cioè Sentirsi sta presenza da dietro Ma che cazzo è Cioè È fastidio E allora Adesso che ho fatto questo trade Qui World of Warcraft Adesso noi andiamo a vedere Sulla lavagnetta Che cosa possiamo fare Quindi qui abbiamo il nostro Disegno Mettiamo la matita Vediamo se ce la fa fare Ok Questo siete voi Ok Questo cesso Qui Siamo noi E questo sei tu Quindi qua ci sono tante persone Che camminano Sei per strada Questo è un marciapiede Ok Quindi tu stai per attraversare Questo marciapiede Stai per Farti a livello di Di camminata Questo marciapiede Quindi stai passeggiando Qui vai sempre drittori Questo è un marciapiede Qui c'è la strada E qua c'è un altro Marciapiede Va fanculo Qua c'è magari Una ragazza Che sta Camminando Ok Quindi Oddio mio Che disegno di merda In questo format Non so se lo porterò ancora E quindi c'è questa ragazza Quindi questa girl Ci mettiamo girl Ok Così si capisce Facciamo il segno Il segno del female Questa è una ragazza Quindi questa qua Sta camminando In questa direzione Ora In questo momento Man Facciamo così La strada Adesso qua In testa Ti vengono un Fottiliardo Di pensieri Praticamente Incominci a pensare Oh mio dio E cosa dico E cosa faccio E cosa non dico E cosa non faccio E cosa E come devo fare E come non devo fare E come faccio E come non si fa In questo istante Tu Non devi pensare A un cazzo Cioè tu devi agire Entro 5 secondi Quindi adesso Tu stai qui Ti avvicinerai In questa zona Poi ti avvicinerai qui Lei si avvicinerà qui Si avvicinerà qui E tu boom Ok Ti presenti Ok Da davanti Ok E' molto meglio Davanti Ok Molte Più Chance Percentuali Se lo fai Da davanti Adesso non so Come faccio a cancellare Questa cosa Undo Ho sbagliato Capito? Cioè nel senso Lo devi fare Da davanti Ok Quindi se tu Lo fai da davanti Che succede? Succede che Le due chance Saranno migliori Ok Quindi faccio Andù Adesso Ancello ogni cosa Però Per dirti Che cosa Che se tu Approcci da davanti Sicuramente Hai molte più chance Cioè Molte più probabilità Di riuscire a ottenere Il risultato Quindi da davanti Tipo questa persona Dove BOOM Mi presento Ok E mi presento Ok Questo Se invece Io sto camminando Quindi se tu Stai camminando In questo modo Vedete Guarda Tu fai così Lei passa Da davanti E lei sta camminando Pure lei Vabbè Questa è ferma E tu stai dietro E da dietro però Voi che fai Fai così Ti giri E vai qua Corri E fai Scusa Pensavo che Così Lo puoi fare Però comunque Avrai molte meno chance Di avere successo Moltissime di meno Cioè L'idea è che Quando approcci da dietro Per strada Tu L'hai passata Magari stai parlando Stai cercando di capire Se è carina o un cesso L'hai passata Stai camminando Ok Tu stai camminando In questo modo Poi la guardi Dici Vabbè Sì è carina Che faccio Ci vado Ma sì Dai ci vado Ok Allora fai questo Non fai questo Da dietro Così Di spalle Che sei meno stupratore Ok Ma fai questo Sei socialmente Calibrato Quindi fai questo Corri Fai un cerchio E ti metti davanti E questo te lo insegnano Nei corsi di seduzione Che costano proprio Madonna Proprio i soldoni Proprio quelli veri Capito Cioè proprio che tu Proprio Proprio sganci Il cash E invece tu lo fai così Questa è una cazzata Che se tu fai pratica Ti viene Non ti serve Non ti serve Pagare i milioni Per fare queste cose Ti serve semplicemente Andare fuori E mettere in pratica Questa si chiama Calibrazione sociale Che avviene Attraverso la pratica Attraverso Il ritorno Il dolore Che hai appunto Dagli input esterni Cioè tu Fai una cosa Tipo fai questo Più volte E vedi che lo prendi Nel culo Cioè che ti mandano A fanculo E che spaventi La gente Quindi se sei Empatico Sai che questo Fare questo Boom Scusa Spaventa la gente Allora tu non farai più Questo Così da dietro Ma farai questa cosa Fai questo Un cerchio Ti boom E gli piondi davanti Così Che è sempre Una merda scalibrata Sempre una cacata Però sarà sicuramente Meglio Di Insomma Stargli dietro In questo modo Così Ok Quindi questa cosa Tu la fai E ti presenti E meglio Questa è la seconda opzione L'opzione migliore È questa Cioè che tu vai lì Davanti Adesso questa seduta Tu vai davanti E ti presenti Ok E fai così Boom Quindi ti presenti Da davanti Così Adesso E ti presento Ok E fai così Piacere Di conoscerti Boom Cioè io questa cosa Ripeto la raffia Perché Capisco che la gente Non è che è proprio Stupida Però Diciamo che Cioè la gente Ha bisogno Come me Di sentirsi Che cose Ti vede più volte Perché se no Uno non lo fa E pensa ci siano Modi estremi O cose assurde Ma è molto semplice Ma è molto semplice È così semplice Cioè tu stai qua Buvo boh 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 Scusa Scusa ma ho fatto Non potuto fare a meno Di notare che Sembra ragazza carina Sembra interessante E vorrei Vorrei prendermi un caffè Con te E quella diceva Ma non ci conosciamo Lo so che sembra Che ci fai qui Dove vai di bello Cosa fai Se gli piace un minimo Ok Se gli piace un minimo Si fermerà a parlare Se gli fai cacare Farà questa cosa qui Farà Così proprio Madonna Si distanzierà in questo modo E si allontanerà Con lo sguardo schifato Sicuro al 100% Che ti fa lo sguardo schifato E non ci puoi fare niente Non è che se vai là e gli dici La formula algebrica Dei buchi neri Per capire come funzionano E cosa c'è al di là del buco nero Quella non si schifa Perché sei un genio O se vai là e sei tipo Brad Pitt Non si schifa Ok Se gli fai schifo E gli fai cacare E tu approcci per strada Ti farà proprio Così Ok Ti farà proprio questa mossa Questo sguardo disgusto Vai su Google Scrivi espressione facciale disgusto Quella è l'espressione che vedrai Due persone che non Che non sono attratte da te Quindi questo succede Allora Ritornando sulla lavagnetta Quindi tu stai qua Ok L'hai approcciata Ta 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 Ok Approccio per strada Da davanti Ok Quindi questa persona L'approccia davanti E gli lanci il tuo script Che cos'è lo script Che cos'è lo script? È quello che praticamente Gli dici Cioè tu sai già più o meno Che cosa le devi dire Sapere Cosa Dire Ok Mamma mia che scrittura di merda Un minimo di frase di input Che all'inizio ti aiuta Dopo diventa ripetitiva Ma perché? Come sto scrivendo anche nel libro Sto mettendo proprio delle frasi Da imparare a memoria Che poi puoi sostituire E adesso te ne dico Ti dico alcune Che ho messo là Cioè tipo che ne so La frase del tira è molla No? Allora tu gli dici Salve Eh sì salve Scusa ma Potevo fare a meno Non aiutare il tuo taglio i capelli Penso che ti stia molto bene Ma volevo dirti Che secondo me Rossa staresti meglio E poi dicono Ma tu che cazzo sei? Ma che cazzo vuoi? Ok? Non ti preoccupare di questo Tu fallo e basta Ok? Così esce la comfort zone E quella è una frase di dire molla Però tu sai già Che con quella frase Gli stai dicendo qualcosa Di preimpostato Così ti togli l'ansia verbale Cioè l'ansia verbale Tu la vuoi togliere Perché chiaramente Se poi vai lì davanti Non sai che cosa dire Fai la figura del muto Che è peggio Di dire qualcosa di prestampato Questa cosa prestampata Ti può aiutare Cioè nel senso Ti aiuta Perché comunque Tu sai già più o meno Che cosa le devi dire Però non è che la devi Utilizzare sempre Tanto poi Come ho scritto anche nel libro Quella frase che utilizzi La potrai arricchire Cioè nel senso Poi ci metterai il tuo O poi magari Utilizzerai solo Il principio della frase Cioè magari Che ne so Io posso notare Il taglio di capelli Di una persona Tu invece noterai Che la frase di Rambolla È praticamente Che tu fai un complimento E poi glielo togli O comunque fa un complimento E poi fai un decomplimento Se nel senso La squalifichi E quello è un impatto psicologico Che diciamo Diciamo Ho fatto copiuto E poi L'ha tolto Bastardo È tipo Già una sorta di Di tempesta dentro Ok Questa frase Che tu sai già Che cosa dire Preimpostata È un tipo di frase Che Che poi puoi arricchire Cioè nel senso Magari Come ti stavo dicendo Io noto il taglio di capelli Tu noti Che ne so Il vestito E quindi Dici Non ho potuto far meno Dal suo vestito Penso che Lei sia molto bene Con questo vestito Però secondo me Il nero le dona di più Cioè ma che cazzo C'entra Niente Però se quella È minimamente attratta da te Riderà Si farà presentare Ti permetterà Di presentarti a lei Ok Ti presenterai E subito dopo questa frase Dici piacere Federico Ovviamente non gli dici Piacere Federico Dici piacere il tuo nome Flash Tuo nome Più il suo nome Come facevano negli anni Nel 2000 E quindi tu praticamente Ti sei presentato A questa persona E a questa persona L'hai così Cioè nel senso Sei piombato nella sua vita Ma in un modo polite Cioè nel modo giusto Senza fare lo stalker Perché fare questa cosa Con una persona Che pensi potrebbe essere interessante Lo puoi fare Dentro un supermercato Lo puoi fare Adesso noi stiamo vedendo Per strada No? Che praticamente è tutto dritto Ok? Quindi in teoria Tu fai una cosa Face to face Opta per face to face Cerca di evitare Di andargli dietro Come ti ho fatto vedere In questo modo Tu stai semplicemente Ehm Come si dice Stai praticamente Dando la possibilità Alla persona Di conoscere te Però nel modo giusto Cioè non è che tu sei Come quello Il camionista Che fa E fischia No? Con le dita E poi Figa Così no? Che strilla Da dietro Cioè non funziona Quello Ok? Ma non è che non funziona Che quella è una cosa Vota bestia E in quanto appunto Cioè magari quella cosa Cioè una scimmia Magari salta addosso A un'altra scimmia Una scimmia maschio Salta addosso A una scimmia femmina Adesso io non so Come si riproducono Le scimmie Cioè nel senso So come si riproducono Però non so Come si approcciano Gli scimpanze O le scimmie Però in teoria C'è una sorta di Momento di corteggiamento Ehm C'è un momento in cui Cioè Credo che le scimmie Scelgano quello Che poi appunto Si Si mostra meglio No? Lo scimpanzeo La scimmia maschio E cavolo è Sto Sto svalinando Sto ipotizzando E quindi Cioè nella realtà Cioè in una società Odierna Dove le norme Sono Socialmente apprezzate Ok? Le norme sociali L'educazione Eccetera Sono ben viste E' normale Che tu ti approcci Con l'educazione Non ti approcci Come uno Scaricatore di porto Perché chiaramente Quello ti depenna Già dall'inizio Ok? Come per le scimmie Non è che la scimmia Si approccia In un modo diverso Cioè la scimmia Non è che si approccia E si mette a suonare il banjo La scimmia si approccia Come si approcciano le scimmie Per riuscire a convivere meglio Con le altre scimmie Per aumentare così Le chance di riproduzione Pensa a sta cosa Pensa a sta cosa Magari è una cazzata Io non so Non ho studiato le scimmie Però l'idea è questa Ok? Quindi tu ti approcci In maniera polite Come dicono In inglesi di merda No no Non so di merda in inglesi Sto scherzando Mi raccomando Sto giocando Però Come si approcciano gli inglesi Di uno polite Quindi in modo giusto In modo corretto Socialmente apprezzato E accettato Eh ma io ho paura Il giudizio Sì Il giudizio degli altri Ci sarà sempre Sarai sempre giudicato Sarai sempre criticato Questo non ci puoi fare niente Quindi questo però È come approcci per strada Quindi devi andare Dritto Verso l'altra persona E magari puoi anche Porgere la tua mano Dopo quando ti presenti Quindi piacere Ta 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 Perché in quel modo Quando mi metti la mano avanti Ti fai capire che comunque Tu sei una persona Che si sta semplicemente presentando E basta Eh L'aspetto estetico Aiuta molto In queste situazioni E ti aiuta anche molto Che cosa I vestiti Cioè nel senso Se sei vestito Con gli stracci Sarà peggio Quindi migliore sarà Il tuo outfit Non dico che devi essere vestito Da venditore Di porta a porta Però Maggiore Diciamo L'aspetto Cioè migliore L'aspetto estetico E migliore sarà Appunto la tua possibilità Di ottenere Una risposta positiva Ok Bene Per questo video è tutto Io spero Io spero di esserci stato D'aiuto con i miei esempi Nel videogioco Qui Che comunque Trova una playlist Di youtube Se sei in podcast Chiaramente questo Non lo puoi vedere Però puoi andare Sul sito Cercare gli articoli Che ti possono tornare utili Questi articoli E quindi Non è un problema Anzi Poi se ci saranno altre Cioè ci sono anche altre frasi Che poi ovviamente Metterò Nel libro E comunque pubblicherò Scriverò anche Nell'articolo Bene Per questo è tutto Noi ci sentiamo Sempre dalla quarantena Al prossimo video Ragazzi mi raccomando Iscrivetevi Insomma fate il cazzo Vi pare Basta che poi Mettete in pratica Quando finisce la quarantena And I'll see you In the next